beh qua un pochino ce n'è ma qua un cazzo si fino in cima ma per favore ma che vada saliamo dalla valletta qua e scendiamo da dove abbiamo fatto quell'altro possiamo anche farlo in discesa si ma sta di fatto che di acqua che ne interminga io mi domando quando cazzo è che sposta tutta sta roba porca puttana e cazzo non c'è dentro una goccia? ma frispalino ma veramente ma quella roba qua figaro ti ricordi che basello che c'era? ehi tutta quella roba che dì lì ha portata di qui si ho capito ma quando? questo è una bomba bang cos'è quel ciucciotto lì? sigarette elettroniche sicuro batteria è esaurita intanto vedi tutto usa e getto guarda che porcate che fanno e tu dimmi cioè è possibile che non c'è dentro neanche un po' d'acqua porco diavolo è una roba da non credere ora che montagna di roba che c'è qua figaro si arriviamo stiamo arrivando teoricamente potremmo salire già da qua vedi? fa il giro esce fuori dove c'è il sasso bianco qui vai fuori dove c'è il sasso bianco no devi girare sopra vediamo la valletta quella che c'era di che veniva giù che è qua sei qua avanti prezzo sto quasi caldo sto quasi sudando prezzo prezzo per lo meno l'acqua qua è pulitissima eh è questa eh eh auguri ma lascia stare quello che c'è dentro perchè quello che c'è dentro lo tiriamo fuori ma ce la facciamo a salire? certo ho fatto il primo pezzettino lì poi fai dentro e fuori ce la fai? se ce la facciamo non vale la pena pulirlo ce la fai con la cabina la potremmo fare una sede provvisoria se ce la facciamo farlo facciamo bene pulirlo è già venuto giù tutto 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 è venuto giù